Buonasera, buonasera, buonasera. Allora, innanzitutto leggiamo velocemente gli stati, perché mi hanno obbligato a salire per le ottennezza. Mettiamo gli occhiali. Questo è per me, chiuso per fere, da adesso fino a quando non finisco i soldi. Praticamente torno subito. Il pazzo. Se trovi una ragazza che ti fa ridere, tienila. Le ragazze non sono divertenti. O è il po' vi state. Vediamo una ciccia. Chi ha detto che ogni lasciata è persa, l'occasione giusta trova sempre il modo di ripresentarsi. È quello che non fai vedere a tutti che è la parte più bella di te. Come quando non mi fai la foto negli occhi. Va bene, va bene. Questo è quanto. Questi sono gli stati di oggi. Va bene. L'unica cosa che mi dispiace, perché erano tutti i momenti in cui dovevi stare accanto a me. Però, lo so, non è colpa a tutti. Ci mancherà. Vabbè, ci rifaremo. Ci rifaremo. Ci rifaremo. Ci rifaremo. Un po' di pazienza. Ci rifaremo. L'unica cosa che vorrei è che ti spostassero a distanza, così, cazzo, mi fanno entrare. Perché veramente mi sono rotto le balle a fare questi video quando ti ho a 32 chilometri. Cioè, capito? Eh, vabbè. Un altro po' di pazienza, veramente. Tanta pazienza abbiamo avuto. Un altro po'. Dai. Eh, va bene, dai. Un altro po'. Un altro po'. Eh. Va bene, cuore, va bene, dai. Ma mi raccomando, ripostati. Cerca di mangiucchiare qualcosa. Vedi cosa ti danno. Alla fine sono loro che decidono quello che devono farti o non farti mangiare. Eh. Tu quello che ti danno prendi, capito? Guardi. Eh. Va bene. Poi dopodiché, basta. Festeggiamo. Perché poi non è che è stata a festeggiare niente di... Eh, sono 83 anni. Sono anni importanti, insomma. Quindi una pizza e via, insomma. Non... Non ci sono grandi feste, insomma. Eh. Va bene. Peppino sta sopra pure. Stanno tutti sopra. Manca solo uno. Mannaggia a te, mannaggia, mannaggia. Boh. Va a boda. Devo avere ancora pazienza. Un altro pochettino. Un altro pochettino ce l'ho. Poi entro e sfondo tutto. Va bene, cuore. Beh, fammi andare a sbrigare, cuore, va. Ci sentiamo dopo per la buonanotte, mi raccomando, eh. 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 Domani un altro giorno. Dai, speriamo che va via definitivamente questa febbre, così ci mettiamo a lavorare per quel lato discorso con queste pilloline magiche che chiamano. E speriamo veramente che sia la magica, eh. Ma soprattutto speriamo che non diano effetti collaterali dannosi. Quella è la cosa che mi preoccupa di più. Perché sul fatto che possano funzionare, non ho dubbi, insomma. Perché sono delle, delle, è una chemia mirata, insomma. Però sono gli effetti collaterali quelli che, 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 che mi spaventano un po', anche se siamo forti e quindi comunque riusciamo a superare il tutto. Va bene? Beh, voglio. Ci sentiamo dopo. Forza. Andiamo avanti. Non molliamo mai, mai. E prestissimo, ma arrivo, arrivo. Prestissimo, prestissimo. Usciremo da voi ospedale. Perlomeno ti faccio una passeggiata, eh. Ciao, cuore mio. A tutti. Ciao. Un bacio. Un cuore. E un bacio.